Venerdì 9 settembre 2022, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, ben ritrovati a questo nostro appuntamento del mattino alle 7, precisi, puntuali, come sempre in diretta, da lunedì al sabato c'è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno. E allora buongiorno a coloro che ci stanno seguendo di prima mattina, magari di fronte a una bella tazza di latte e caffè o soltanto di caffè, insomma buongiorno a tutti voi. Cominciamo come sempre dal santo del giorno, oggi è San Pietro Claver, il sole è sorto alle 6.40 e tramonterà alle 19.31. Dal mare alla montagna, questa mattina apriamo la nostra finestra mostrandovi questo scorcio di montagna, siamo a Frontignano in provincia di Macerata, sempre su Skyline con un impianto che attualmente ovviamente è fermo, un impianto di risalita, qui si scia durante l'inverno quando c'è la neve e questo è il paesaggio naturalistico ma anche tecnologico perché con tutta la tecnologia all'avanguardia che porta appunto, che serve per scalare le montagne, c'è questa immagine molto suggestiva con queste nuvolone nere e questo vento che comunque sono protagonisti anche di questa giornata è che oggi, secondo anche la protezione civile delle Marche con il suo bollettino consueto quotidiano, questa giornata infatti sarà caratterizzata soprattutto nelle prime ore della giornata da isolati rovesci e temporali, anche lungo la costa e nella prima collina. Domani invece avremo un cielo senza precipitazioni, senza pioggia ma ancora irregolarmente nuvoloso, mentre domenica, domenica se qualcuno pensava di farsi un'ultima o una delle ultime giornate al mare purtroppo dovrà trovare qualche alternativa al programma perché nella mattinata, dalla mattinata di domenica e per la prima parte del pomeriggio ci saranno brevi rovesci o temporali sparsi in esaurimento nella seconda parte del pomeriggio, probabile miglioramento delle condizioni per l'inizio della prossima settimana. Il vento intanto ieri mattina, perlomeno qui dalle nostre parti a Fano, in provincia di Pesorbino, l'ha fatta da padrona e da padrone, quindi vedremo anche dai giornali insomma quali sono i danni che ha provocato, ma soprattutto si parla di alberi che sono stati divelti, sono finiti qualche volta anche sulle macchine, sulle strade. Adesso invece andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del calino, la fotonotizia del calino di Pesaro riguarda i roghi che sono scoppiati nella notte, nel giro di due ore, quattro roghi, quattro incendi, tre cassonetti ed una macchina. Il titolo è La notte folle dei piromani, qualcuno che evidentemente si è divertito appunto ad incendiare cassonetti e addirittura una macchina. Le altre notizie, quella d'apertura è sulla liberazione di un lupo, anzi una lupa, perché poi quando l'hanno catturata l'hanno guardata meglio ed è risultato essere una femmina, una femmina di due anni portata in un'area segreta, liberata e da mesi stazionava in una zona del mare di Fano. Quindi la liberazione non è soltanto per il lupo ma anche per chi abitava lì da quelle parti, perché insomma pensare di avere un lupo che si aggira tutti i giorni da quelle parti, seppur non ha mai dato problemi, ecco quindi è una liberazione un po' per tutti. Scambiano l'Alt per un approccio e non si fermano al controllo, la conducente finisce a processo, lo strano caso delle tre ragazze e dei tre uomini della capettianeria di Porto, lo vedremo tra poco e poi sempre dalla prima del carino di oggi in breve. Allora, da Pesero, Villabetti incrociano l'auto dei ladri che hanno appena ripulito la loro casa, poi il colpo ruba ori e pistola nell'abitazione di un poliziotto, la città delle moto, Benelli Wick, appassionati da Mezzomondo per il raduno e poi sciocca a Fano, oggi l'addio al medico 27enne è stato tradito dal cuore. VL, Leo Totè invece rimane affermato per due anni, Calcio, Vis e Fano, allora la Vis ritrova l'ex Mamona, mentre il Fano ha a che fare con tre giocatori infortunati. Il Corriere Adriatico invece, edizione di Pesero, apre con la questione delle bollette e che stanno mettendo a dura prova tante aziende, ma in questo caso negli articoli di oggi si parla delle palestre e delle piscine a rischio. Blocco in allarme il mondo dello sport amatoriale, le prospettive sono allenamenti al freddo e docce a casa. La Presidente Wisp a Bagnara dice non ce la facciamo a sostenere i rincari per il riscaldamento e quindi dovremmo correre in qualche modo ai ripari. Poi nasce l'Accademia del Cinema, Rainbow e Poliarte con la Regione, sede a Villa Bonaccorsi. Poi ancora altre notizie dalla prima del Corriere di Pesero, Fede Matteo, Luna di Miele e le Marche sono speciali. Poi catturata la lupa di Sassonia, libera in un luogo segreto. A Pesero invece bretelle e strade, si devono tagliare quasi 140 piante. A Pesero c'è una polemica tra gli ambientalisti e non solo ambientalisti e il Comune. Il vento abbatte alberi e rame, danneggiati invece mezzi soprattutto a Fano. Cinque torri invece, siamo sempre in un quartiere di Pesero, raid di fuoco, incendiati, cassonetti e auto, roghi appiccati nella notte in zona campus, si indaga su un gruppo di giovanissimi. Poi è ufficiale, la VLA ha ingaggiato il lungo totè. Allora, ripartiamo da questa pagina, la pagina 3 del Carlino di oggi. Notte di fuoco in strada alle Cinque Torri, date alle fiamme tre cassonetti e un'automobile. Da luna alle 3 del mattino sono scoppiati quattro roghi tra il parco del campo da baseball e il cinema Metropolis. Vigili del fuoco impegnati a ripetizione, a spegnere gli incendi. I piromani hanno sfondato il vetro di una Fiat 600 e poi l'hanno bruciata. Sotto invece incrociano la macchina dei ladri che hanno appena ripulito la loro casa. Doppio colpo in pieno giorno in due villette a Villabetti, una famiglia arriva a casa un attimo dopo il furto. Praticamente è successo intorno alle 10 del mattino, da quello che scrive il giornale. Qualcuno ha notato che una villetta in una zona appartata di Villabetti, prima periferia di Pesaro, è incustodita. I proprietari sono usciti e, attenzione, non c'è il sistema di allarme. E dunque, nonostante si aggiorno, i ladri pensano all'azione e si avvicinano alla porta basculante del garage. Ovviamente entrare, come scrive giustamente il giornale, è un gioco da ragazzi. Una volta all'interno hanno rubato quello che c'era a portata di mano, ma anche qui denaro, preziosi, oggetti di valore che trovano sparsi per la casa nelle varie stanze e quindi escono, ma probabilmente non se ne vanno. O meglio, mettono al sicuro l'aria furtiva e continuano a stazionare nella zona, cercando di capire dove possono mettere a segno altri bottini. E questo poi va avanti, tutto il racconto. C'è un'altra casa che viene presa di mira, eccetera, eccetera. Tutto questo in pieno giorno. Ovviamente, in questi casi, insomma, i ladri fanno i ladri, i malviventi fanno i ladri, ma le persone per bene dovrebbero fare un po' più attenzione, invece. Nel senso che, se uno sa di avere in casa denaro, gioielli e quant'altro, almeno il minimo sindacale è un impianto d'allarme, perché, se no, diversamente la vedo dura. Questa è un'altra notizia, invece, a pagina 7 del resto del Carlino, una notizia che, insomma, lascia un po' perplessi, ma comunque scambia l'altra per un approccio, ragazza si ritrova sotto processo. Che cosa è successo? Hanno scambiato queste tre amiche ventenne che stavano all'interno di un'auto, hanno incrociato altrettanti ragazzi, quindi circa tre ragazzi, che, a loro dire, inizia un gioco di seduzione. Uno esce dalla macchina e fa segno di fermarsi. Loro, invece, proseguono. Erano uomini della Capiteneria di Porto. Quindi scambiano il gesto, questo alt per un gesto d'approccio, e, invece di fermarsi, tirano dritte. Sembra una storia da commedia degli equivoci. Fatto sta che alla conducente dell'auto, una ventenne pesarese, quel mancato stop è costato il rinvio a giudizio con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. Insomma, è tutta da leggere questa storia, che è un po' dell'incredibile, insomma. Però questo è quello che riporta il giornale questa mattina. Allora, andiamo nella pagina di Macerata. Il titolo. Colto da malore mentre era in strada. Muore il prof Gaetani. Aveva 46 anni. Docente dell'università, regista e attore. Era stato Arlecchino nel Pinocchio di Garrone. Il decesso avvenuto a Londra. Era un'agenda piena di impegni, quella di Claudio Gaetani. Qualche giorno da passare a Londra, insieme alla sua fidanzata. Quindi ritorna a Civitanova per preparare le lezioni per i ragazzi delle medie di Porto Potenza. Ma subito una nuova partenza in direzione di Milano. Domenica 18, al teatro Elfo Puccini, sarebbe dovuto andare in scena l'Ombra Lunga del Nano. Spettacolo di cui era protagonista. Sta tutto annullato. La morte ha incrociato Claudio Gaetani ieri mattina mentre passeggiava in una strada della capitale inglese. Un malore improvviso, probabilmente un infarto. Aveva 46 anni. Un altro cuore, dunque, che improvvisamente si ferma. Così come è successo a questo giovane medico che è stato tradito dal cuore a Fano. L'esame autoptico conferma i problemi cardiaci. Oggi alle 10 era di Omarotta. Il dottor Costantini c'era sempre rivolto al bene degli altri. Il 27 invece si era accasciato al volante al termine del suo turno in ambulatorio. Dunque l'autopsia ha stabilito che è stato il cuore a fermarsi. Ovviamente su questo nulla da dire. Sono i cuori che si fermano. Ma bisogna capire perché questi cuori si fermano. Il set, e torniamo alla pagina di Fano, la prima pagina di Fano del Resto del Carlino. Il set La vigna e la malattia del pesce. Tognazzi, cerimoniere del Brodetto. L'attore apre stasera il Festival del Lido. Da 12 anni produco vino. Dice lui che era la grande passione di mio padre. Dunque questa sera si alza il sipario alle 19 al Lido di Fano sulla ventesima edizione del Brodetto Fest. Piatto simbolo della riviera Adriatica che verrà celebrato in una tre giorni di incontri, degustazioni, cooking show con grandi nomi della cucina e dello spettacolo. Grande attesa questa sera per l'arrivo di Gianmarco Tognazzi sul palco centrale alle ore 21.30. L'ingresso è gratuito. L'attore racconterà di sé e della sua passione per il vino con il conduttore Paolo Notari. Allora, serve la complanare invece all'autostrada e a parlare il geometra Armani che boccia la variante di Gimarra, propone invece un'alternativa. L'interquartieri non farà che riversare il traffico sulla statale per Pesaro. Catturato il lupo di Sassonia è una femmina. L'esemplare stazionava da mesi nell'area ridosso di Viale Battisti, è stata liberata in una zona segreta ed è stata utilizzata una trappola in dolore che ha permesso di sedare l'animale. Grazie all'uso di un radiocollare saranno monitorati poi tutti gli spostamenti. sul posto anche l'assessore Carloni che ha liberato, vedete, il lupo. Rifiuti, pressing sulla provincia. Il sindaco di San Costanzo sollecita l'ente sul piano d'ambito mentre operazione sicurezza in via Roma accoglie al metauro. Il comune mette mano ai marciapiedi ai margini di un dirupo. Sopra invece, restando accoglie al metauro, al professor Radi il premio Mar Adriati con un cortometraggio nella sezione scuola. Andiamo avanti. Qui siamo sempre sulla pagina di Fano. Intanto c'è un aggiornamento sulle condizioni di salute di quella mamma che ha avuto quell'incidente in bicicletta e con lei c'era anche una bimba, la sua bimba, di due anni. L'aggiornamento ce lo dà il Corriere Adriatico. Mamma in coma, condizioni stabili. Resta dunque ricoverata all'ospedale di Torrette. Questa donna urtata da un'auto mentre procedeva in bicicletta trasportando nell'apposito seggiolino anche la sua bambina di due anni. La donna di appena 31 è rimasta vittima di questo incidente martedì sera poco dopo le 20 nella rotatoria di Ponte Metauro e la sua bambina pur essendo caduta a terra non aveva riportato lesioni ed era stata poi affidata alla nonna. Dunque le condizioni di salute di questa donna rimangono stazionarie dunque probabilmente è sedata, è in prognosi riservata, è in coma, come si dice, farmacologico e quindi speriamo che tutto vada per il meglio. Mentre il titolo che riguarda sempre la pagina di Fano del Corriere violenze in serie su moglie e figli moglie e figli la denuncia per fermare l'incubo a giudizio un 59enne un 59enne che non accettava che cosa? Che la figlia avesse una relazione con un ragazzo egiziano dunque non evidentemente italiano e quindi un ragazzo straniero. Ieri è entrato nel vivo un processo di cui un 59enne residente a Fano originario delle Puglie è finito a giudizio per maltrattamento in famiglia i testi hanno raccontato la loro versione tra loro c'era l'ex moglie e i figli che hanno confermato il clima difficile che si era creato a casa. Poi dalla Valle del Metauro invece la situazione del maltempo in realtà del forte evento di ieri che ha abbattuto alberi e rami tanti danni alle auto in sosta titolo della Val Metauro oggi sul Corriere gran lavoro per i Vigili del Fuoco ma le raffiche si esauriscono nella mattinata. Dunque forti raffiche che come potete forse vedere non tanto bene ma adesso io provo ad allargare sul touchscreen le fotografie che non sono però un granché nel senso che sgranano questo albero crollato in via del Ponte a Fano piuttosto che in via Lago di Vico a Ponte Sasso e qui vedete sulla destra invece una staccionata di quelle di legno che si è riversata si è staccata da terra ed è finita si è adagiata sulle auto in sosta ma poi ce ne sono tanti altri di interventi anche sulla strada per Monte Giove per esempio ne sono caduti uno ne è caduto in particolare e ha di fatto interrotto la circolazione un albero che è caduto in mezzo alla strada poi cocci di vetro invece a Fossombrone ecco qui non so se c'è il dolo nel senso il timore è che si sia trattato di un atto voluto cioè di cospargere una vecchia panchina in cemento immaginate di essere in un giardino nello specifico a Fossombrone in quello di Viale Cairoli che è nella fotografia ecco e di a un certo punto appoggiarvi sedervi in questa panchina e sentire subito un dolore perché qualcuno ha pensato qualcuno forse ha pensato di spargere su questa panchina in cemento dei pezzi di vetro dei pezzi di vetro e quindi un bambino si è ferito alla mano e qui c'è il racconto la segnalazione sul Corriere del Riato dalla Val Cesano invece ampliamento della discarica parliamo della discarica dove ci si portano i rifiuti il sindaco che è Filippo Sorcinelli di San Costanzo parla di risposte mancate e questa sera c'è un'assemblea con i cittadini l'ha organizzata il comitato ambiente vivo di Andrea Landini scrive il giornale per le 21 e 15 un comitato che ha organizzato questa riunione e porterà questo comitato in assemblea pubblica a conoscenza dei cittadini la problematica relativa all'ampliamento della discarica di Monte Schiantello e quindi immaginiamo ci sarà pure il sindaco insomma si parlerà di questa eventualità e con questa ultima notizia possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa rassegna che tornerà puntuale domani mattina alle ore 7 e quindi a me non resta altro che augurarvi una piacevole giornata in compagnia anche dei programmi di Fano TV questa sera c'è il telegiornale alle 20 e 30 e se volete collaborare con la nostra redazione come sempre il numero lo vedete in sovrimpressione 338 49 68 250 grazie e arrivederci grazie a tutti